Ciao e benvenuto al settimo video dedicato alle Sticks & Pad Nights. Sono Ruggero Pazzaglia, il fondatore di The Drum Booster, strumenti per il batterista intelligente, e oggi ti guiderò in un altro viaggio dedicato ai dettagli dei workout che faremo durante le dirette intitolate appunto Sticks & Pad Nights, che avverranno ogni mercoledì alle 21.30 in diretta dalla pagina Facebook di The Drum Booster. Nei video precedenti ti ho spiegato un po' cosa faremo e come faremo. Ti ho invitato anche a prepararti un po' prima di affrontare i workout delle dirette, mettendo a disposizione gli esercizi. Questo materiale è corredato di PDF e delle mie videoesecuzioni appunto degli esercizi alla velocità di partenza che useremo proprio il primo mercoledì. Questo renderà tutto più semplice e snello, eviterà di collegarsi in tanti in una situazione dove non si sa cosa fare, per cui ci potrebbe essere confusione e quindi anche un po' di noia, smarrimento e invece io voglio che noi si arrivi belli organizzati a questo appuntamento perché noi dobbiamo soprattutto allenarci. Alla fine di questi workout, che dureranno circa un'oretta, mi fermerò ancora per 30 minuti e risponderò alle domande che potrei farmi scrivendomi in chat sotto al video. Prima di procedere con la spiegazione di ulteriori dettagli, vorrei rispondere a due domande molto importanti che mi sono state rivolte nei giorni precedenti e sono due domande molto importanti a cui tengo molto a rispondere. La prima è, ma se non partecipo alla diretta, posso rivedere la registrazione e dove posso farlo? Le registrazioni potrai trovarle all'interno della pagina Facebook di The Drum Booster e le condividerò anche nel gruppo Strumenti per il Batterista Intelligente. Per cui non c'è problema se mercoledì sera hai qualche impegno e non puoi essere dei nostri, ti basterà tornare nella pagina di The Drum Booster e lì troverai la diretta. La seconda domanda invece è più di carattere personale. Qualcuno mi ha chiesto, ma Ruggero, perché fai tutto questo? Ed è una domanda a cui io tengo molto perché è una domanda molto intelligente e profonda. Vedi, io faccio tutto questo perché ho capito che sono entrato nella terza fase della mia vita, quella in cui sento il bisogno di lasciare un'eredità per poter appunto lasciare un segno del mio passaggio. Sento l'esigenza di lasciare il testimone ai giovani, a qualcuno che mi seguirà. Vedi, ho studiato tanto, ho investito tanto, ho conosciuto persone meravigliose, ho fatto esperienze meravigliose e ho avuto la fortuna di vivere a cavallo di due epoche meravigliose. La prima, che si stava concludendo, quella iniziata negli anni 70 nel boom della musica, rock, della discografia, del pop, è quella degli anni 90-2000, quella dell'era digitale, quella di iTunes Store, quella della computer music. E questa seconda fase sembrava essere una fase buia, una fase di crisi, perché entrò in crisi il mercato discografico e quindi tutto il settore che ci tocca da vicino. In realtà non avevo capito l'opportunità che ci dava questa seconda era, che a proposito ti segnalo essere molto interessante e stimolante. Ed è per questo che io ho deciso di imparare ad usare gli strumenti moderni, come i video, le dirette, Facebook, i social, per poter finalmente condividere con più persone possibili la mia esperienza. Lo voglio fare per i giovani che si stanno affacciando a questa professione, che apparentemente sembra essere nei guai, ma invece non lo è, anzi. Ma lo voglio fare anche per chi ha deciso che imparare a suonare uno strumento musicale, come nel nostro caso la batteria, sia una cosa che fa bene al cuore e all'anima, anche se non si hanno velleità professionali di nessun tipo. Infatti sono anche io un accanito sostenitore che prima di tutto bisogna farlo per se stessi. Poi questa cosa si può portare verso l'esterno. È importante capire che lo sviluppo e l'evoluzione parte prima dall'interno, per poi poter esplodere verso l'esterno e aiutare anche altre persone che ne hanno bisogno. Ecco, questo è il mio perché, che poi corrisponde alla mission che mi sono dato qualche anno fa, in seguito ad un evento traumatico che ho subito. Ma quell'evento mi è servito a decidere esattamente che cosa fare nei miei secondi 50 anni di vita. Per cui resta con me perché ho tantissime cose da darti nei prossimi 50 anni. Ma adesso torniamo velocemente a Sticks and Pad Nights. Prima di cominciare faremo alcuni esercizi di stretching che io ho preso da questo libro del dottor Marco Brazzo, che è l'allenatore dei musicisti, e che lui stesso mi ha consigliato personalmente. Un'altra cosa che mi raccomando è che devi avere sempre vicino a te una bottiglia d'acqua, perché devi comunque idratarti. È molto importante. Mi raccomando, se sei seduto allo sgabello mantieni la schiena dritta. Se sei in piedi sarebbe preferibile, perché almeno durante gli esercizi puoi spostare il peso da una gamba all'altra. In questo modo la colonna vertebrale subirà di meno la pressione della forza di gravità. Bene, adesso partiamo subito dal primo esercizio che vedremo, che si chiama Free Stroke. È un esercizio molto importante che faremo partendo molto lentamente, per poi accelerare l'esecuzione andando avanti con le suddivisioni ritmiche. Come vedi da questo esempio tratto appunto dal videocorso, ogni esercizio sotto, nella parte bassa dell'inquadratura, ha il gobbo o karaoke per il batterista. Vedrai quindi una barra verticale scorrere sulle note, che corrispondono esattamente all'esecuzione dell'esercizio che stiamo facendo. Questa opzione la trovi in tutti i videocorsi contenuti all'interno del portale The Drum Booster. È una cosa molto importante, così non devi stampare carta e non devi guardare in due posti diversi. Basta che guardi sempre dritto lo schermo e vedrai sotto lo scorrere dell'esercizio. Leggi quello e intanto nel tuo campo visivo ci sono anche io che ti faccio vedere i movimenti. Questo non avverrà durante le dirette. Durante le dirette dovrai praticamente aver, non dico imparato a memoria gli esercizi, ma alcuni potremmo ancora dargli uno sguardo, altri sono talmente semplici e logici che basta che li facciamo insieme. Poi nei video del portale, in basso a destra, c'è un ingranaggio. Se tu ci clicchi troverai un menu che ti permette di accelerare o rallentare i video. Sotto a ogni video PDF c'è un tasto con scritto scarica e, a seconda del browser che usi, Chrome, Safari, Firefox, segui la procedura. Per chi usa Chrome è semplicissimo, cliccando sul tasto scarica si apre la finestra che ti chiede dove mettere il file e poi esegui il download. Invece Safari e Firefox, dopo che hai cliccato scarica, ti aprono di nuovo il video e, cliccando con il tasto destro in mezzo alla finestra del video, ti si aprirà un menu e ti chiederà di salvare il video con un nome. A quel punto, scegli dove salvarlo e avvia il download. Se ti stai chiedendo dove trovi tutto questo materiale, ti ho messo il link qui sotto. Lo trovi all'interno del portale e il corso si chiama Two Hours Workout livello 2, perché, come ti ho spiegato nel video precedente, questo è un workout dedicato a batteristi di livello medio-alto, per cui partiremo già da velocità piuttosto elevate. Se sei un principiante, ripeto, connettiti e guarda lo stesso. Provaci, se non ci riesci, fammelo sapere perché ho intenzione di fare un'analoga diretta, ma per chi ha un livello un po' meno avanzato. Partiremo da velocità più basse con gradi di difficoltà minori. Nessun problema, lo faccio volentieri, anzi, è una cosa a cui tengo molto. Ora vorrei segnalarti velocemente quali sono gli esercizi che, secondo me, devi proprio guardare prima della diretta. Gli esercizi che devi guardare prima della diretta sono quelli della unit 5, per esempio, del workout binario. Quelli nominati con cancelletto 5, studio 1, studio 2, studio 3. Quindi, in questi esercizi troverai uno schema che io ho sviluppato tanti anni fa, quando ho capito che qualsiasi frase ritmica era possibile ridurla in scomposizioni e raggruppamenti di gruppi di due note e tre note. Non è una cosa che ho inventato io, è una cosa che fanno in tanti, ma io l'ho scoperta anni fa. L'organizzazione di questo esercizio, che si chiama Basic Bin, perché sono mini cellule ritmiche esposte su un flusso binario, ecco perché si chiama Basic Cellule Ritmiche Basilari Bin su flusso binario, e sono, come vedi, raggruppati in gruppi di note, prima, cioè gruppi di due note, tre note, quattro note, cinque note, sei note, sette note. Quindi sono gruppi di due sedicesimi delimitati all'inizio da un accento, tre sedicesimi, quattro, eccetera, eccetera. All'interno di ogni gruppo di note io posso eseguire uno o più accenti. Quindi nel primo esercizio faremo solo un singolo accento e un doppio, perché ci concentreremo sulla parte meccanica usando una mano alla volta. Per questo motivo reputo molto importante la perfetta conoscenza di questi gruppi da due e da tre e degli accenti che io posso fare all'interno di ognuno di questi gruppi e come combinarli assieme per costruire delle frasi un po' più complesse. Se tu ingloberai nella tua routine giornaliera questo schema di esercizi, vedrai che il tuo fraseggio farà un salto quantico e anche la tecnica delle tue mani. Non ci crederai nemmeno ai benefici che otterrai in breve tempo. Quindi nello studio 1 partiremo usando solo una mano alla volta e faremo lo schema usando solamente accenti singoli e doppi e applicheremo quindi la tecnica Müller, come vedi qua dall'esempio tratto dal videocorso. Nell'esercizio numero 2 invece, nello studio numero 2, andremo ad usare un tappeto cosiddetto di colpi singoli, cioè alternando le mani, e eseguendo gli accenti a seconda di quale mano viene impiegata per fare l'accento, dipende dalla posizione dell'accento. Nel terzo studio invece metteremo insieme le tecniche fondamentali, cioè il controllo dei polsi, il controllo dei rimbalzi, il controllo degli accenti, il controllo delle dita, usando ancora questo schema, ma raddoppiando con dei rulli, quindi con la tecnica Push and Pull, tutte le note fra un accento e l'altro. Questo è tutto il lavoro che faremo durante la prima settimana. Nella seconda settimana analizzeremo lo stesso percorso invece su un flusso di note ternario. Mi raccomando, anche quello guardatelo prima perché purtroppo il ternario è meno familiare del binario. Adesso ti ho detto tutto, sei pronto per la diretta di mercoledì, non c'è altro da aggiungere, ti ricordo solamente che se verrai impreparato, sicuramente al massimo dopo 10 minuti ti annoierai e quindi ci lascerai. Ed è per questo che ho deciso di mettere a disposizione 18 video e relativi PDF degli esercizi che useremo durante queste dirette e le trovi, come ti ho detto, nel portale The Drum Booster. Il corso si inchiama Two Hours Workout Livello 2, ti metto il link. Decine di persone hanno già scaricato questo videocorso, perché il prezzo è talmente basso e irrisorio che è abbordabile per chiunque. Costa solo 12 euro e sono ore e ore di video e PDF. Mi raccomando, vai a prendere gli esercizi, guardateli prima, soprattutto quelli che ti ho segnalato, e vieni preparato mercoledì alle 21.30. Prima di chiudere vorrei ricordarti per quale motivo sto facendo queste dirette dedicate ai fondamentali della tecnica. Lo sto facendo semplicemente perché la tecnica è una cosa molto importante per poter suonare bene, ma non è l'unica. Ci sono altre cose molto importanti quanto la tecnica, che però tratteremo in altri video. Ecco perché ci troveremo tutti i mercoledì per 12 volte a fare questi workout, perché i fondamentali vanno sistemati ad un certo livello il prima possibile. Per cui ti ricordo ancora che cliccando sul link qui sotto andrai a prenderti tutto il materiale a un prezzo stracciatissimo e noi ci vediamo mercoledì sera alle 21.30 in diretta su Facebook dalla pagina di The Drum Booster e la registrazione delle dirette rimarrà sulla pagina e metterò la condivisione sul gruppo strumenti per batterista intelligente. Un abbraccio da Ruggero e ci vediamo mercoledì alle 21.30. Ricordati, studia più intelligentemente e meno duramente. Ciao!